Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. L'area gelide che ha interessato l'Adriatico e il Sud Italia nei giorni scorsi, con nevicati a tratti anche intense, si è ormai spostata verso oriente. L'alta pressione delle azzorre, che aveva lasciato spazio a freddo e neve, ha ormai inglobato interamente la nostra penisola, con un lento rialzo delle temperature. Ma attenzione perché continueranno a persistere condizioni di aria più fredda continentale, congelate e stese al primo mattino e sera anche in pianura. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per lunedì 2 gennaio. L'alta pressione delle azzorre ha riconquistato le nostre regioni. Tempo generalmente soleggiato su tutto il territorio, con cili tersi e aria molto secca. Forse qualche nube in più si potrà avere nelle zone più interne. Temperature in rialzo nei valori massimi, minimi, minime stazionarie o in diminuzione nelle vallate e nelle pianure, per il fenomeno dell'inversione termica. Gelate e stese al primo mattino e sera anche fino nelle vallate e in pianura. Venti deboli e variabili, mari da poco mossi a calmi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Ennio Mascia, che ci mostra questa bellissima foto del paese di Faeto, in provincia di Foggia, illuminata e coperta da una coltre nebbiose. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Mete One e Teleacula, oppure alle mail che vedete sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Tutto lo staff di Mete One vi augura un sereno e buon anno nuovo. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.